ciao amici buongiorno a tutti voglio rifare di nuovo le seadas con l'impasto però senza uovo le ho fatte qualche giorno fa con la mia amica ottigiana a casa sua adesso voglio provare a farle da sola e con l'impasto senza uovo come si usa in alcune province della sardegna bene andiamo a vedere il procedimento buona visione ciao a tutti voglio rifare le seadas con l'impasto senza mettere l'uovo ho seguito anche nei vostri commenti per esempio pierre anna maria che hanno detto che loro non mettono l'uovo e quindi sono andata a vedere anche altre ricette in effetti sì ci sono ce ne sono molte senza uovo soltanto quindi con la farina farina di semola eccola qua io ne ho messa tre etti adesso invece di mettere lo strutto che non mi trovo anche perché volevo evitare grazie animali ho messo un bel cucchiaione di olio l'acqua l'acqua tiepida quanto basta per riuscire a fare un impasto da poter tirare poi quindi ogni provincia della sardegna ogni luogo ha il suo modo per fare le seadas però l'ingrediente principale sempre quello il pecorino sardo freschissimo poi c'è chi lo lo fa minacidire poi lo passa in padella oppure grattugiato come sto facendo io che è molto più semplice l'impasto come vedete quasi pronto la consistenza che deve venire questa quindi le dosi contano poco basta mettere l'acqua che tira la farina bene questo è il pecorino sardo che abbiamo già dimezzato il mio marito molto buono non è proprio freschissimo perché l'abbiamo preso già da qualche giorno adesso io ne andrò a me preparo anche le arance con i limoni da grattugiare io adesso ne andrò a mettere tre etti poi però vedo se la dose giusta per i tre etti di farina aggiustiamo dopo le dosi grattugio tutto il pecorino e poi grattugio anche le arance due arance perché sono piccoline e un limone arance arance bio mi raccomando queste sono le mie ma sono le ultime sono un po' piccoline possiamo metterne anche di più così si sente più il sapore dell'arancia io ci metto un po' di zucchero ma c'è anche chi non lo mette per niente un po' di non lo metto e poi faccio così con le mani stringo vedere il formaggio fino a farlo diventare un po' solito diciamo ci metto un altro un po' di no ecco perché ci vuole fresco fresco nel senso di fatto da pochissimi giorni pecorino perché poi si compatta meglio io ho detto pecorino sardo ma solo perché l'ho preso da pastori che sono sardi solo che non stiamo alla nubia non è che possa andare in sardini comunque è ottimo questo pecorino ok riprendiamo il nostro impasto riposato una mezz'oretta a temperatura ambiente e andiamo a stenderlo naturalmente questo è un impasto minimo e poi vediamo quante seadas ci vengono io ho fatto solo tre etti ma voi potete fare benissimo mezzo dillo di semola devo accelere un pochino se no mi viene il video troppo lungo che ho notato che quando i video sono troppo lunghi su youtube nessuno li vede dall'inizio alla fine forse perché annoiano un pochino quindi è sempre meglio farli un pochino più corti sotto i 15 minuti ok lo spessore mi regolo insomma a mio piacimento l'ho fatto abbastanza non sottilissima ma abbastanza sottile e poi prendo qualcosa per fare i tondi una tazzina o se avete un coppia pasta ci andiamo adesso subito con due facciamo i due che vanno sotto e i due che vanno a coprire li taglio con un coltello poi vi faccio vedere come decorarli attorno tutti i contorni che rimangono naturalmente vanno ricompettati e cercheremo di usare tutto tutto l'impasto ecco così ok questi sono i primi due adesso mettiamo al centro una bella una bella noce di formaggio così mettiamocene abbastanza così verrà più sostanzioso prima di coprire spennelliamo con pochissima acqua così si attacca meglio altrimenti poi quando andiamo a friggere si aprono ok adesso copriamo così attacchiamo bene con le mani spingiamo così si attacca bene e poi l'altra volta con Giuliano abbiamo fatto con la rotella invece adesso ho visto un video che fanno anche così con la forchetta vedete viene come un rigamino bene poi procedo queste sono erano le prime due procedo con l'altra pasta fino a finire tutto l'impasto e vediamo quante ce ne vengono con questa dose che ho messo un pochissima ho cambiato il martarello perché un altro c'era il fermo finale che mi dava fastidio questo scorre anche meglio bene abbiamo terminato quasi tutta la pasta continuo a riempire così questo pennello ancora poi copro poi trocete con la forchetta è più carino vedere la siadas con il rigamino finale ci sta bene e ecco le pronte nel frattempo ho messo l'olio di semi a scaldare queste sono sei ma mi è rimasto un pezzettino di pasta eccola qua la finisco proprio l'ho finita di stendere anche se mi viene proprio perfetta ma così l'ho finita l'ho terminata bene ho usato tutta la pasta ok questo è quello che mi è rimasto quindi noi abbiamo messo tre atti ci sono venute otto abbiamo messo tre atti di farina e tre atti di formaggio ma come vedete era troppo quindi che bastava due atti su tre atti due atti di formaggio va bene anzi non erano anche più di tre atti tre atti e trenta quindi con il formaggio vi dovete regolare tanto si avanza poi io questo adesso lo comparto lo stringo e lo metto anche al surgelatore o al frigo poi magari faccio un pochino di pasta ma si può benissimo surgelare così mi fate la pasta al momento lo tirate fuori prima fate prima a fare le seatas bene vedete sono ce ne sono venute otto iniziamo adesso a friggere mi dispiace per la dieta ma le seatas vanno rigorosamente fritte con olio di semi io preferisco friggerne una per volta perché così me la controllo bene ho messo un tiramino piccolino così non faccio spreco di olio ok la mettiamo proprio qualche minuto e poi la giriamo l'olio deve essere bel caldo perché cuociano velocemente la giro un paio di volte deve essere bella dorata l'interno cosa l'interno si cuoce ancora mettiamoci anche sopra l'olio con un cucchiaio lo spingiamo laggiù ho abbassato un pochino per non farlo bruciare eccolo vedete e così la copriamo la copriamo di olio bene eccola pronta bellissima adesso ci metto un po di miele che ho fatto sciogliere a bagnomaria ma se volete potete mettere lo zucchero ma il miele ci vuole ecco qua anzi dentro il miele ci potrebbe star bene con un po di succo di arancia poco poco eccola qua pronta da gustare adesso la apriamo è facilissima da fare basta avere l'ingrediente giusto provate a farla amici guardate che bella è buonissima veramente buona ciao a tutti grazie della visione ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao